...e spalmare su un giornale al prezzo modicissimo di un euro. Voi date un euro al vostro dicolante, richiedete All Music e troverete questo giornale che vede in copertina le Atomic Kitten, ma non solo, perché potrete trovare anche interviste ai Noir Desir, Piero Pelù, Papa Roche, Richard Ashcroft, The Edge, ovviamente degli U2, i Velvet, Siria e poi se troppo leggere mi fa male agli occhi, c'è anche il posterone speciale di Cristina Aguilera, così con quello diventate cecchi nel giro di una settimana. E insomma, vale assolutamente la pena. All Music, il nostro e il vostro soprattutto giornale. Detto questo, io rimango qui con le mie amiche Atomic Kitten e musica dal vivo con il Suco Marcio. Sono qui da solo, mi sento un po' a mancare, tra le quattro mura mi vorrei solo impiccare. Sento dentro, il cuore sta piangendo, il sangue non fluisce, la mia testa sta scoppiando. Nel mio letto penso a tutto quello che abbia fatto e una voce suggerisce di far ciò. Apri la tua porta e digli tutto quel che pensi, guardala negli occhi e digli nel tuo cuore. Sono qui da solo, il tempo sta passando, ma mentre sto piangendo, Non stanno cambiando, quel che vedo, l'ombra poco alle gane, manca quella luce che dà vita e la produce. Nel mio letto penso a tutto quello che abbia fatto e una voce suggerisce di far ciò. Apri la tua porta e digli tutto quel che pensi, guardala negli occhi e digli nel tuo cuore. Pensando a quello che eravamo, ritornere al passato come resuscita. Tanto è vero, sono un po' depresso e sembro un pesce che vive nell'acqua del mio cesso. Nel mio letto penso a tutto quello che abbia fatto e una voce suggerisce di far ciò. Apri la tua porta e digli tutto quel che pensi, guardala negli occhi e digli nel tuo cuore. Stucco marcio live a plate, io sono qui seduto sul divano con i miei tre amici di oggi e le Atomic Kitten. Prendiamo la telefonata, pronto? Prendiamo la telefonata, pronto? Prendiamo la telefonata e tutto ilatory?